Potremmo... c'è un'altra domanda? Lui, tu, avevi... due, perfetto. Grazie mille. Ricordati quel suggerimento, ma tu strappaglielo proprio, non ti preoccupare. Tanto lo sanno. Io sono veloce. Allora, Marco Rabito, serenissima meteo. Allora, io arrivo da Vicenza e a Vicenza c'è una bella esperienza di meteorologia portata nelle scuole, grazie all'intervento dell'amministrazione comunale di Vicenza che ha sostenuto questi progetti. La mia domanda però va, è rivolta soprattutto all'argomento che ha toccato il dottor Cacciamani. Cacciamani ha detto molto bene, ha toccato l'argomento allerte, che è un argomento molto delicato, che riguarda l'incolumità pubblica. L'incolumità pubblica che è tutelata dallo Stato attraverso le leggi e quando il signor Cacciamani ha detto si entra anche nel codice di procedura penale, io dico, ok, codice di procedura penale, ci sono ancora siti che scrivono allerta, che scrivono allarme, che scrivono parole che non spettano loro, ma che spettano gli enti preposti. Detto questo, a casa mia si dice che se una cosa non viene con le buone deve venire con le cattive. A questo punto lo Stato, secondo voi, dovrebbe intervenire, il legislatore dovrebbe intervenire da questo punto di vista? Grazie. Bene, prima del secondo giro di domande. Allora, la risposta è, come dicevo, sì, secondo me andrebbero perseguiti, no, è colpa mia, però c'è un tema che va discusso, allora perché fino adesso non è accaduto? Uno potrebbe chiedersi. E poi, la seconda domanda è, sicuramente dopo che l'hai perseguiti una volta, due volte, tre volte, quattro volte, magari uno ci sta un po' più attento, dici, no, a fare queste cose. Può essere vero, può essere vero. Io devo dire la verità, a me non mi rende felice il fatto che uno fa una cosa del genere, lo colpisco con, come dire, con la magistratura, anche se va fatto in certi casi. Mi preoccupa di più il fatto che quella cosa accada. E vorrei che non accadesse. E perché possa non accadere ci vuole una crescita, sicuramente, sia culturale di chi fa questo mestiere, ma sia una crescita culturale di chi riceve le informazioni, in modo che sia in grado di capire che quel messaggio lì, mandato da un'istituzione che non è preposta per fare quel mestiere, non deve essere considerato. E quindi qui necessariamente la discussione si apre. Perché? Uno potrebbe dire, ma insomma c'è una legge dello Stato, no? Facciamola semplice, c'è una legge dello Stato. Ma perché ci deve essere qualcuno che la disattende? E comunque un cittadino va a prendere un'informazione da qualcuno, sapendo che quella lì probabilmente non viene data una sufficiente considerazione alle leggi dello Stato. Non sarà anche questo un po' il problema? Perché viviamo in un paese dove c'è un'attenzione alle leggi dello Stato che viene data, per cui ci stupiamo noi della meteorologia, di qualcosa che accade da tutte le parti. Perché non apriamo la televisione tutte le sere e vediamo gente che dice, che usa un linguaggio, come una volta si chiamava la caserma, eccetera, e lo prendiamo ormai come una cosa data, una volta queste cose qui non accadevano, adesso accadono, è normale che accadano queste cose qui, non c'è forse, non ci sarà una norma, non ci sarà una legge, ma non c'era una volta una roba che si chiamava deontologia, per cui tu certi linguaggi o certi atteggiamenti non li utilizzavi in certi ambiti. Quindi probabilmente siamo andati oltre. Sicuramente ci vuole ogni tanto una bastonata. Poi c'è anche chi dice che se usi il bastone gli dai più pubblicità a chi utilizza. Io non c'ho mai creduto un granché a questa tesi, però chi lo dice lo dice con cognizione di causa. Dice, ah ma se tu parli troppo di questa cosa, poi in realtà quella cosa che se non la consideri poi si nasconde da sola, non riappare più e quindi invece se tu la parli, tratti, poi quella cosa viene fuori, quindi alla fine gli fai anche un favore. Un po' di vero ci deve essere, perché certe esasperazioni che sono avvenute nel nostro mondo mediatico forse sono un po' connesse anche al fatto che sono stati presi in considerazione forse un po' troppo certe figure che utilizzavano certi linguaggi, piuttosto che, non lo so, è un po' complicata. Sicuramente sì, però bisogna andare avanti, non basta soltanto la magistratura, questo è il mio punto di vista. Bene, poi c'era la...